Siamo in compagnia dello chef Antonino Buclo, oggi qui ad Alcara di Fusi, che piatto ci presenterà? Presenterò un piatto che si chiama Facottino dei Nebroti, è un involtino di suino nero dei Nebroti, ripieno con uva passa e pinoli, all'interno c'è pure una cipolla caramellata e un formaggio di capra semistagionato. Farò pure un fondo di salsa di porro e un'insalata liquida di scalora, per dare un po' di croccantezza, un po' di dolce e un po' di agro. Un piatto con tutti gli ingredienti dell'eccellenza siciliana. Quanto lavoro c'è dietro la creazione di un piatto? Ci sono giorni di lavoro, di una durazione, ci sono ore, giorni, studio, perché ci sono tanti ingredienti che si devono lavorare, non è la classica insalata che si mette un goccino di olio e si mette nel piatto, è una creazione un po' complessa, però che poi giustamente per questo si chiama piatto gourmet, perché deve avere una lavorazione particolare rispetto alla solita lavorazione che si può fare a casa, con degli ingredienti pure sviluppati in maniera più gourmet. Ma come nasce questa passione? Io questa passione l'ho avuta da piccolino perché a mio padre piace pure cucinare, io da piccolino quando mia mamma cucinava qualcosa io volevo sempre mettere anche le mani in pasta. Figurati che quando io avevo sei anni già facevo la torta impastata con la folchetta, me la guardavo nel forno per vedere quando gonfiava, è una passione che ho portato da piccolino proprio, non più forte di me. Quando mia mamma cucinava io dovevo essere là con lei a cucinare anch'io, a sporcarmi le mani di farina e via dicendo. Oggi qui ad Alcara Le Fusi, nebro di gusto, è importante mostrare questi piatti che vengono realizzati con i prodotti del territorio perché significa valorizzare poi tutto ciò che sta dentro il piatto. Certo, valorizzare i nostri prodotti perché noi abbiamo tante eccellenze che non vengono mai pubblicizzate. Il sindaco consegna il cappello di nebro di gusto. Grazie. Grazie. Questa sera vi farò assaggiare, ho chiamato proprio padottino dei nebro di. Padottino dei nebro di? Sì, è un padottino fatto con suino nebro di nebro di pieno con cipolla, con la pasta, un formaggio di taba e di trapati e poi metteremo una crema di cuore e patate e una salsa di scalota ripida che è come un'insalata ma ripida. Quindi abbiamo il dolce, il salato e il fruttante. Perfetto. Sembrano i bottini di primavera, diciamo, quelli di prima mista. Sì, non sembra, non sembra. E' quello che ho detto che ho voluto creare qualcosa di particolare e simpatico. Allora, procediamo con l'impiattamento. Ricordiamo che questa è una crema di porri e patate. Si posiziona su il colpino. Potete ritirare il ticket naturalmente per la degustazione. È gratuito, non si paga nulla. Dovete soltanto ritirare un bigliettino con il nome di Mino Bucolo, così potete assaggiare il suo piatto. Questa è? Questa è una cipolla di minato dolce. Questi sono dei fili di peperoncino. Per dare un po' di... Ma è piccante? Leggermente piccante. Oreo della tenuta. Tenuta Arena. Arena. E anche il mio titolare. Ecco, vedi. E il piatto è pronto. Nino Bucolo. Fagottino di Nebbi. Il fagottino di Nebbi di Nino. Nino.